A dieci giorni di tempo per presentare le osservazioni al fine di contrastare la presunta incompatibilità l'assessore allo sport e al turismo di Ariano Erpino Mario Manganiello è quanto deciso in consiglio comunale nella seduta convocata dal presidente Antonio della Croce in base ad una lettera presentata da un cittadino nella quale si chiedevano chiarimenti sulla sua posizione. La minoranza aveva già sollevato il problema all'inizio della consigliatura poi accantonato perché si era battuta la strada della inconferibilità. A votare per l'apertura del procedimento anche la maggioranza per chiarire una volta per tutte la questione. Nella seduta del consiglio è stata illustrata come secondo punto all'ordine del giorno la bozza del documento dell'area vasta di cui dovrebbero far parte i comuni dell'Ufita, Calore, Miscano e Cervaro. I relatori Carola D'Agostino e Gianni Ferentino dopo il discorso introduttivo dell'assessore affidato hanno spiegato come possa avvenire la promozione e sviluppo integrato alla luce dell'attuale scenario della programmazione europea. L'assessore affidato ha snocciolato punti di forza e di debolezza del territorio al fine di integrare il documento anche con il supporto dei consiglieri comunali che dovranno attuare un percorso di esplorazione e ascolto. Diversi gli interventi e le osservazioni di tutti i consiglieri sia di maggioranza che di opposizione prima del voto favorevole. Grazie.